Ehi, ciao, come stai? Bene, e tu potevi telefonare prima, brutta testa di cazzo. Matteo, come sta? Matteo, aspettami in camera tua! Matteo, nessuno, aspettami in camera tua, spagisci Adriano! Aspetta, aspetta! Possiamo un attimo parlare io e te di lui, e mio figlio, e sono suo padre? E allora? Voglio rimedere agli errori che ho fatto. Tuo figlio ha vissuto la tua interesistenza senza di te. Quando ha compiuto il suo primo anno di vita tu non c'eri, neanche quando ne ha fatti due, tre, quattro, sei contato Adriano, no? Sono passati dieci anni. È un bambino senza padre tuo figlio. Aiutami a conoscerlo. Per quanto mi riguarda tu sei morto. Ora si tratta solo di capire quello che è giusto fare per lui. E quindi? E quindi farò quello che è giusto fare per lui e tu non mi cercare perché ti chiedo io. Aspetta, aspetta, cosa fai? Mi lasci qui? Sì, ho un lavoro con cui vado avanti da dieci anni senza di te. Dovrà tenermelo ben stretto, no? Ciao Adriano, ciao.